Segno 7 rubrica settimanale socio-religiosa in diretta a cura di Paolo Bonci Buonasera ai nostri telespettatori. Stasera abbiamo un tema importante ma io penso anche abbastanza riposante, nel senso che si parla di arte, di poesia, di canti, di qualcosa che in qualche modo ci può anche confortare, specialmente la sera dopo cena, che è il momento in cui si dovrebbe riposare. Valorizzare la memoria orale, quindi la tradizione orale, ad aiutarci in questa comprensione anche nell'avvicinamento a questo tema. Abbiamo quattro ospiti, ve li comincio a presentare dalla mia sinistra, Lorenzo Michelini, che è inquadrato? Ancora no? Comunque Lorenzo Michelini è alla mia sinistra e che è un medico ed è esperto di tradizioni popolari. Ci vuoi aggiungere qualcosa, Lorenzo? Grazie per l'esperto, forse è una parola anche troppo esagerata, però comunque no, no, mi occupo come praticante e quindi anche studiando quelle che sono le varie componenti della nostra poesia e tradizione dell'oralità, nelle varie forme di cui poi ne parleremo più approfonditamente in seguito. Paolo De Simonis, accanto a lui, che io so che anche lui si interessa appunto di tradizioni popolari, ma facciamoci un autoritratto, un po' più analitico. Io sono Marco Vetti, non sono un po' più analitico. Ah, ecco, allora mi sono sbagliato, ho visto quell'altra volta, quindi... Va bene, Marco Vetti, nulla di male. Sono un po' destemporale. E quindi? E quindi improvviso tali, scrivo storie, le racconto, le canto. Quindi sarebbe lei, diciamo così, stasera quello più direttamente definibile artista. Faccio il giro, il professor Priore, noi ci si conosce, meno male se non ho sbagliato. Penso che anche la gente del posto mi conosca perché sono vissuto una cinquantina d'anni nel Dardano a Terramaro. Poi ha insegnato, addirittura mi ricordo quando lei insegnava latino e greco al liceo classico di Arezzo. Ho insegnato al liceo classico di Arezzo, al liceo scientifico di Montevarchi e poi alla scuola media, ecco, in discesa sempre, però andare alla scuola media mi ha aiutato molto per la ricerca sui canti popolari. se avessi continuato a insegnare latino e greco forse, forse non avrei avuto quello spazio che mi è stato possibile usare. E allora Paolo De Simonis è il signore che ho alla mia destra. Sono un fiorentino nato nella prima metà del secolo scorso, nel 1946, da madre contadina e quindi ho avuto in casa con il nonno contadino l'ottava rima che ora eseguono Lorenzo e Marco nella loro attività di performatori. non mi piaceva quando ero piccolo perché la sentivo lontanissima dalle canzoni che sentivo alla radio. Mi è capitato in seguito all'università, laureandomi in dialettologia italiana e poi insegnando a vari livelli, anche gli ultimi anni l'ho fatta anche all'università, invece come vendetta dell'avversione infantile ci sono dedicato in termini di studio e di ricerca proprio rivalutando in tardetà quella oralità popolare che mi faceva effetto da piccolo. Ok, bene, allora intanto ma diamo un filmato, tanto per entrare in atmosfera, è il punto su questo tema, il testo di Leonora Norti Gualdani e il montaggio di Stefano Sati. La regia è pronta? Quando si parla di memoria orale ci si riferisce a tutte quelle conoscenze e credenze che trasmesse da una generazione all'altra come patrimonio di un sapere collettivo di una comunità. Dalle epoche remote l'oralità è stata sempre il sistema privilegiato di trasmissione del sapere, essendo il mezzo di comunicazione più diffuso, rapido ed immediato da usare perché accessibile a tutti. La tradizione orale comprende quindi forme quali narrazioni, miti, canti, frasi, leggende e favole. La storia dell'uomo è essenzialmente un percorso di conoscenze trasmesse oralmente. A livello di intero popolo c'erano delle persone, spesso gli anziani, che assumevano come compito quello di memorizzare tutti i fatti importanti avvenuti nelle generazioni precedenti e di trasferirli alle nuove generazioni. Tali fatti potevano essere i nomi dei capi che hanno governato il popolo, il loro operato e le loro gesta, le guerre oppure le calamità come alluvioni, epidemie, carestie e terremoti. Gli antichi celti e agli anziani aborigini codificavano le conoscenze tramite canzoni, danze, storie e luoghi. Nell'antica Grecia invece all'oralità era assegnato il compito di trasmettere idee e conoscenze. Alla tradizione orale è stata affidata ad esempio la diffusione dell'opera di Omero, inizialmente declamata e recitata e non letta. Nacque poi la figura del cantastore, intrattenitori che si spostavano di città in città raccontando una favola, una storia, un fatto come incursione di pirati, miracoli di santi, eventi catastrofici, leggende sacre e racconti profani, meravigliose vittorie e lacrimevoli sconfitte, personaggi come Garibaldi e momenti epici come Risorgimento. I cantastori rappresentarono l'unico tramite culturale tra il popolo analfabeta e il mondo epico e poetico. Palermo è stata la culla di un'altra figura tradizionale, oggi completamente scomparsa, ovvero il cantastore a Orbu, nato intorno alla metà del Cinquecento, anno in cui la Chiesa usava i loro racconti per diffondere storie sacre e liturgie ed avvicinare così il popolo a Dio. Ma la tradizione orale è anche quella che si tramanda all'interno della famiglia. Ad ogni generazione la storia della famiglia si allunga, fino al punto che qualcuno è in grado di raccontare i nomi e i fatti importanti di decine di generazioni di antenati, con la trasmissione di generazione in generazione di segreti sui mestieri, consigli prodigiosi, ricette culinarie e tanto altro ancora. La memoria orale è dunque un prezioso bagaglio culturale e storico, importante e certe volte fondamentale per ricostruire il passato in ogni suo aspetto. Bene, siamo ritornati nel studio, quindi Eleonora ha concluso con la memoria orale come fonte per ricostruire il passato. Vabbè, toccheremo anche questo, perché la memoria orale prima di tutto io penso che sia da riferire a periodi in cui la scrittura mancava e quindi era una necessità. Questo bisogna ricordarselo. Io vorrei che voi, chi di voi insomma vuole, faccia un po' una riflessione sugli antichi poemi episci. Cioè Omero, l'Iliade e l'Odissea, provengono dalla memoria orale e da ricociture di canti, come si dice. Una riflessione su questo. Non so se forse il professor Preore vuole darci qualche contributo. Mi sono laureato sui papiri dell'Odissea di Omero. Bene, Omero non si sa se sia esistito mai. Comunque, prima di Omero c'erano dei rapsodi che si ispiravano ai canti, ai fatti, alle gesta eroiche o anche avventurose. Eroiche mi riferisco più che altro all'Iliade e avventurose, mi riferisco più che altro all'Odissea. Questi rapsodi poi in qualche modo sono stati rielaborati probabilmente in due epoche diverse e da due personalità diverse di poeti. Uno per l'Iliade e uno per l'Odissea, ecco. Nell'Iliade e uno per l'Odissea si vede chiaramente una mano di qualcuno che ha cercato di unificare, di amalgamare i vari episodi che correvano sulla bocca dei rapsodi. Sia nell'Iliade che nell'Odissea però ci rimangono delle parti che non quadrano con il complesso dell'opera e che stonano un pochettino con quello che è lo stile generale che si percepisce sia per un poema che per un altro. Per esempio nell'Iliade c'è la Doloneia, l'episodio di Dolone che probabilmente non è stato rielaborato proprio da Omero. Nell'Odissea ci sono anche altri passi come quello dell'Annequia, del viaggio di Ulisse nell'Ade. Però il grosso dell'Iliade e dell'Odissea praticamente hanno avuto una rielaborazione da parte di un poeta che ha messo a frutto tutto quello immateriale di cui poteva disporre. Sono stati poi fissati. No, questi poemi sono stati fissati, però sono rimasti, dopo la prima stampa, sono rimasti aperti anche a nuove interpolazioni. Per l'appunto è su questo che i grammatici Alessandrini si sono impegnati proprio per mettere fine a questo continuo trasformarsi sia dell'Iliade e dell'Odissea con aggiunte che non avevano a che fare con la rielaborazione unitaria dei due poeti, perché si pensa che siano due personalità. Anche perché poi gli argomenti sono diversi. Uno riguarda il periodo eroico, l'altro riguarda il periodo delle colonizzazioni, delle esplorazioni. E i poeti Alessandrini finalmente perlomeno hanno posto fine a questo continuo trasformarsi dei poeti, dei poemi che chissà come sarebbero arrivati a noi se non si fosse provveduto a fermare questa libertà di inserzione nei testi. Da lì sono diventate però letteratura. Sì, sono diventate letteratura, sono una delle parti più importanti della letteratura greca. Ecco, la memoria orale poi nel momento in cui compare la scrittura, insomma, non è che venga abbandonata, lo dimostrate anche voi, eccetera. Io volevo anche tornare a quella frase finale conclusiva di Leonora Gualdani, in cui diceva appunto che la memoria è una fonte affidabile. Infatti ci sono tante opere che si fondano sulla memoria, i racconti, eccetera. Ma, insomma, la tradizione orale, la memorialistica fondata sulla tradizione orale, basta. Sono davvero fonti attendibili? Che cosa ne pensano gli storici in generale, insomma? Una fonte scritta è più attendibile di una fonte orale? Oppure ci sono altre opinioni, ecco, su questo? Lorenzo? Marco? Ma forse... Paolo. Provo a dire, ma chiamando in causa a voi, cerco di mettere insieme Eliade, Odissea e anche questo tema della veridicità, dell'attendibilità delle fonturali, partendo da Lorenzo e Marco, che sanno che io l'invidio, sono invidioso maggio della loro capacità di improvvisazione poetica. E quindi mi sono chiesto, quando ho visto questo riferimento a Eliade e Odissea, perché c'è bisogno di dire che la tradizione orale, anche quella contadina, toscana, ha queste antenate così illustri? Quando si va a cercare antenate illustri è perché forse non siamo sicuri di quel che siamo noi. Io stimo Lorenzo e Marco, anche se Omero non c'entrasse nulla. E quindi, ritorno su questo elemento indicativo, è come un sintomo, cioè dire che discende da poeti straordinari dell'antichità classica più remota, è un segno importante perché è come se dimostrasse una sorta di complesso di inferiorità, sostanzialmente. C'è bisogno, spesso capita che uno vada e spenda anche in ricerche araldiche per avere un antenato importante, perché vuol dire che lui personalmente non è tranquillo. Io su questo ho dei dubbi, cioè mi sembra proprio che andrebbe rovesciata la cosa. Il fatto di cercarlo nel passato, il valore, impedisce di cogliere il valore reale della contemporaneità, di quello che Lorenzo e Marco sanno fare benissimo, anche se non avessero mai letto niente di Omero o che. Questo è uno dei dati. E anche la superiorità della scrittura, nel senso comune, una cosa scritta è bloccata, è stabile, l'oralità fluisce, non si capisce dove va. Dopo verrò al discorso della storia. Ma già anche nella letteratura, è bene ricordarsi che nella filosofia greca Platone ha scritto cose importanti, direi, contro la scrittura. In che senso? Che quando loro due si sfidano a duello, creano un dialogo, una dinamica continua di idee, concetti, creatività, che sono sempre in divenire. Una volta messi su scrittura, diceva Platone, si fanno due, si perde due cose. Intanto si perde la vivacità del dialogo. Diceva Platone, una cosa quando è scritta non può più rispondere a chi la interroga. Ormai è stata scritta, è morta, per certi versi, è fissata. Un po' è terribile. È un paradossino. E l'altro è quello della perdita della memoria. Cioè se uno affida la sua memoria allo scritto, rinuncia a guardare in se stesso, al suo interno. Quindi per dire in sostanza che il rapporto fra importanza e verità, fra oralità e scrittura, è più complicato. Anche perché poi nel tempo questo rapporto si è ulteriormente complessificato. Cioè non soltanto Omero è diventato letteratura scritta. Ma sappiamo benissimo che i grandi della nostra letteratura nazionale, appunto Dante, Ariosto e Tasso, sono stati scritti. Ma sono stati anche poi imparati a mente dalla scrittura. Sono stati pubblicati su Robetta, insomma, Puscoli, Fogli Volanti. Quindi c'è stato un continuo ricambio. Sì, sì, sì. In sostanza importante. Sulla attendibilità poi c'è un'altra cosa classica. È un dibattito che è in corso d'opera da un 20-30 anni circa, questo, del duello in storiografia e in antropologia culturale. Io mi occupo di antropologia culturale sulla veridicità. Lo si può porre anche in un altro modo. Noi siamo qui. Qualcuno sta registrando forse quello che noi stiamo dicendo fra noi. Quindi, come documentazione, è possibile che avremo una documentazione di fonte orale fissata su supporti audiovisivi. Ci vediamo anche, purtroppo si vedrà anche me. Ma, a parte questo, direi che il discorso sembrerebbe finito. Cioè, per chi volesse studiarci fra 50 anni a tutto quello che serve, io non ne sono certo. Perché la verità, diciamo, la realtà non è come un calco. Quando uno mette un piede nel fango, lascia un'orma. Ecco, la storia e il sapere cosa è successo veramente non è come il calco che la polizia mette per trovare i segni dei pneumatici. Quello è una prova certa. Ma prova alcune cose. Può provare che noi siamo qui in questo giorno, eccetera. Ma che cosa abbiamo in testa? Quello che non ci diciamo. Da dove veniamo noi. Non risulta dei documenti in questo modo qua. E quindi, appunto, ci sono spazi larghi per immaginare che tutte le diverse fonti sono sottoposte a interpretazione. Non c'è una fonte che può essere presa per com'è. Anche un verbale dei carabinieri è una fonte scritta e posizionata. Quindi non è una opposizione fra lo scritto va sempre bene, l'orale dipende. Cioè, tutte le fonti orali scritte vanno comunque sottoposte a vaglio critico, in sostanza. Fino anche a rivalutare, che è stato fatto in questi ultimi decenni, faccio due esempi classici. Purtroppo ho visto ora che Dante aveva lavorato sulla strage di Meleto. Ecco, le strage nazifasciste. Cosa è veramente successo? Noi possiamo sapere quanti erano i nomi e i cognomi, qual era il battaglione tedesco che li ha uccisi. Però c'è tanta altra roba ancora. Un esempio clamoroso è quello delle false notizie. Ogni tanto viene fuori che fra i tedeschi responsabili degli assassini c'era uno buono, che ha salvato qualcuno. È possibile che sia successo, ed è anche provato che lo sia. Però pensate, se fosse falsa l'informazione che nella strage di Meleto c'era un tedesco buono che ha salvato alcune persone, certo è falso, ma però ci dà un'informazione enorme. Vuol dire che nella tragedia dove il mondo sembra finire, sembra altro che apocalisse, allora c'è qualcuno che desidera che anche qualche tedesco sia buono. La vita deve ricominciare. Quindi questa bugia è in realtà un'informazione profonda su come la pensa l'autore stesso, il bugiardo. È in realtà un profeta, è come vorrebbe vedere il mondo, in sostanza. Oppure ci sono episodi drammatici, orripilanti, proprio tipo bambini buttati per aria e colpiti al volo. C'è altre orripilanze che non voglio ricordare qui. Ci sono appunto dei psicanalisti che hanno osservato che accade questo. Quando c'è appunto un dramma, si dice, indicibile, quando non ci sono parole per dirlo. Allora c'è gente, viene fatto di, per poter dire qualcosa, per non stare zitti, ci si riattacca a cose già sentite prima. Cose già sentite della prima guerra mondiale, miti, leggende, fiabe. Perché allora questa cosa che ti pesa trova uno sbocco di comunicazione possibile. Sono due falsità, diciamo, no? Quindi sono inattendibili se uno vuol sapere chi quel giorno lì ha ucciso chi. Però ci informa in modo più largo e più profondo sull'umanità. Ecco, questo in sintesi estrema, ma la faccenda al solito è più complicata. Sì, la sintesi estrema lei ha toccato in maniera molto, direi, colta anche il tema dell'attendibilità delle fonti. A parte io sono perfettamente d'accordo con quello che lei diceva, però non conta nulla il fatto che sia d'accordo. Era il problema della verità, no? Della verità storia. Se lo poneva anche Manzoni, no? Questo fatto. La psicologia del personaggio, quello che c'ha dentro, il movimento, le gesti, tutto quello che può contraddire quello che è scritto in un documento, effettivamente può venire fuori in una forma d'arte di questo tipo, né antipopolari o, insomma, nell'esposizione. Quindi è un falso problema quello di porre il verbale dei Carabinieri come fonte del tutto veritiera rispetto a un racconto di un vecchio contadino che racconta un'esperienza sua, magari, della Seconda Guerra Mondiale. Ci dicono cose diverse. Ecco, sì, perlomeno sono complementari. Io vorrei dire un'altra cosa pure. Poi si va un po' da loro, perché se no si... Che gli storici ufficiali a volte falsano la realtà dei fatti che ricostruiscono. La falsano proprio con la cattiva coscienza della malafede? Può capitare anche questo. Sì, ma può capitare. Quello è un atto, diciamo, simpatico. Comunque, per fare storia, dico, non bisognerebbe solamente risalire alle radici dei fatti, ma anche vedere quali sono state le reazioni emotive della gente che ha vissuto quei fatti. E i poeti popolari proprio questo aspetto ci mettono in luce. La dimensione emotiva, diciamo, fa parte del mondo. A proposito dei fatti di Meleto, se posso, vorrei leggere, tanto è breve, una ballata di cantastorie, di un cantastorie di maggio che ha scritto, si è improvvisato poeta dopo la fine della guerra, assieme a tante altre persone, anche per reagire a quella specie di cappa che era stata loro imposta dal fascismo perché i poeti popolari, quelli dei cantastorie, non potevano toccare certi argomenti, dovevano adattarsi a quello che permetteva il regime. Eh, certo. Professore, scusi, potrei, si può rimandare a un momento successivo, così interpello loro su un'altra cosa, cioè sul genere, perché se non si completa la prima parte, cioè i generi della tradizione orale popolare. Descriveteci un po' questa esperienza, come è fatta questo tipo d'arte, perché non tutti lo sanno. Per esempio, so che si tratta di improvvisazione, sempre, di relazione con il pubblico particolare, forse si va sulla scia emotiva anche, e poi lo stile formulare, quello c'è già neganti omerici, insomma, perché c'è questo stile delle formule? Per facilitare un po', no? Sì, ora, su questo argomento sicuramente il professor Priore e il professor De Simonis ne possono approfondire molto, sicuramente molto meglio di quanto possa fare io. Però, un attimo... Non ti preoccupare? Che l'osservatore, in qualche modo, implica un cambiamento del fatto che va a osservare, anche semplicemente osservando un batterio a microscopio in un comportamento, c'è un cambiamento. Quindi, la verità assoluta, se c'è, non è dato forza. Questo è un difetto, secondo me, tra parentesi e poi mi taccio, è un difetto anche di certa scienza oggi. Per cui, la comunicazione televisiva è tale, per cui siamo arrivati qui, la scienza ha detto, ma la scienza non è un ambito in cui c'è un metodo che è sempre aperto a qualcosa, diciamo così, da sondare, da scoprire, quindi non c'è nulla di certo. Insomma, vabbè, chiudo. Sì, sì, no, sull'esatto, ora, non per fare citazioni autorevoli, ma anche Einstein diceva che mi accorgo che dietro a tutto questo formulare di numeri c'è un pensiero. Ora, non voglio scendere in argomenti di quali non saprei poi uscirne, però questo mi conforta perché quando anche si argomenta in poesia, ringrazio per tutti i complimenti di questa facoltà che ci è data, ora qui siamo presenti di Marco, ma chiaramente al poeta che, più che leggere o fare un'azione teatrale, ha proprio un'azione di improvvisazione, praticamente dice quello che vuole, dice quello che vuole e però forse, un po' per rispondere anche alla tua domanda, per rimanere in un ambito un po' conosciuto e sicuro per non improvvisare al 100%, cosa di cui la televisione ha grande paura, perché quando ci siamo incontrati con la televisione, e non parlo della vostra trasmissione, ma con altre televisione nazionali, il poeta improvvisatore ha sempre preoccupato o era troppo lungo, ha la paura di non sapere che cosa stesse per dire, perché è una funzione in quel momento il poeta che improvvisa ha alla parola, ha quello che dice, ha la facoltà di parlare con dei canoni riconosciuti, nel caso dell'ottava rima, con l'endecasillabo, con la rima alternata e con la rima baciata per finire, quella melodia che è abbastanza canonizzata, ognuno ha un po' la sua, ma è una melodia abbastanza riconosciuta, e questo fa sì che quando il poeta comincia a intonare si sa che sta andando in una direzione di dire qualcosa, a un interlocutore, perché di solito il poeta canta con un altro, è che questo interlocutore quasi mai è d'accordo con lui, e quello è il bello anche perché si hanno questi due aspetti della questione. E un altro aspetto che io ho visto provando proprio negli anni all'improvvisazione, è questa sorta, passatemi il termine, forse un pochino pomposo, ma è un termine quasi oracolare, perché io mi sono accorto che quando si canta, si improvvisa in ottava su un argomento, la velocità dell'improvvisazione fa sì che le parole, è vero si cerca la rima, si cerca di stare dietro all'argomento, però sempre per parlare in maniera scientifica, il cervello destro, quello della fantasia, deve lavorare, il sinistro deve dare le direzioni precise, o undici sillabe, o la rima, o le strutture, però la parte destra deve comunque dare la fantasia, il divertimento, la bellezza, e spesso, almeno io ma anche altri poeti parlando, ci siamo trovati a dire delle cose che forse non si sapeva bene qualche secondo prima di poter dire, o di dire, e il significato che noi si vuol dare non sempre corrisponde al significato che l'ascoltatore prende dalle nostre parole, un pro come appunto, ora, ripeto, si ritorna al problema che segnalavano, esatto, quindi la parola, quindi la verità dov'è? Nelle parole che io dico, in quelle che chi ascolta interpreta, e le varie persone poi hanno la libertà di interpretare, a te volevi dire questo? Io altre volte mi sento, con quell'ottava te volevi dire questo? Ma forse sì, o forse no, ecco, un po' come la sfera magica dello sciamano, e in questo un po' il poeta improvvisatore c'ha questo parallelismo con figure come lo sciamano, il sacerdote, il medico, che in qualche modo non dà mai, non dovrebbe forse dare mai una verità assoluta, ma una verità un po' interpretativa, ecco. Ecco, io vorrei coinvolgere, a parte che siamo quasi in fase di interruzione della prima parte, quindi non voglio interromperla a metà, lasciamo stare, però Marco Betti, che credo sia la persona forse più creativa, insieme a te, naturalmente. Ma sì, sì, certo, certo. Però, insomma, ha un film, come dire, un'apparenza stasera un po' più, diciamo così, alternativa della tua, è Lorenzo. Sì, 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 dubbiamente. Un attore, almeno così pare a me. Abbiamo la pubblicità che incombe lo stesso, rimandiamo alla seconda parte, la ballata che ci leggerà il professor Priore. Qualche minuto di pubblicità. Rientriamo nel studio, la pubblicità è finita. Allora, Marco Betti, che finora è stato silenzioso, che cosa ci fai sentire? Posso improvvisare un'ottava o posso... Ecco, dacci un esempio pratico di che cosa... Facciamolo un esempio di un'ottava, che sono otto versi berrimati. Il primo, il terzo e il quinto si ricava, il secondo, il quarto e il sesto si attaccati. Ancora ci manca un distico e si lava con due bei rimanti e ben baciati. E gli ulti e tutti gli otto versi che ho fatto hanno undici silla a be' pescato. Ecco, questa è un'ottava. Sono otto versi in decasillabi, detto in prosa, il primo, il terzo e il quinto rimano tra loro, il secondo, il quarto e il sesto. E gli ultimi due. Cantando e creando, diciamo così, una specie di canto popolare, ci ha spiegato che cos'è l'ottava in un'ottava, mi pare, no? Sì, ho spiegato che cos'è l'ottava in un'ottava. È una delle ossature, ecco, diciamo, di questo dialogo a cui accennava di anzi Desimonis. E l'ottava, Marco, perché l'ottava? Propriamente l'ottava è caratteristica di questo tipo di canto. L'ottava è... L'ottava è tipico anche della letteratura, dei poeti, come dire, raffinati, lotti, no? L'ottava è, secondo me, la stanza narrativa per eccellenza. Sì, si chiama anche stanza, infatti. Perché in otto versi si possono dire tante cose. È uno spazio nel quale si può argomentare tante cose. Non è l'unico metro che usa la poesia popolare, perché per dire si possono improvvisare delle terzine, delle quartine, si possono improvvisare delle sestine. Per il popolo, poeta, canta storie, ottava rima, sestina, terzina, erano tutte storie, era tutta poesia. Non faceva questa differenza. Però i poeti preferiscono improvvisare in ottava perché hanno appunto nel contrasto più possibilità di argomentare, di portare acqua al proprio mulino. E la gente ha modo di ascoltare tante cose e in queste cose di riflettere su quello che il poeta propone. Perché quando due poeti di contrasto hanno semplicemente propongono delle soluzioni possibili a problemi comuni. perché il pubblico si scalda quando il tema è sentito. Per cui il pubblico che chiede il tema e chiede generalmente temi di attualità. Ora come ora vanno di moda Salvini e Di Maio, per esempio. Ma possono andare di moda la Juventus e il Napoli. Parlare di cose che riguardano tutti perché tutti ne siano partecipi. Era bello quello che diceva di Anzi Paolo De Simonis quando diceva che quando non hanno parole per dire le cose ricorrono a parole che hanno già sentito. E la potenza della poesia, al di là di quello che si dice, è questo veicolare di parole per cui dai l'appiglio a chi ha un malessere interiore, a chi ha un'angustia e non ha le parole per dirle. Per cui ne soffrirebbe di potersi attaccare alle parole del poeta e poterlo ridire magari con parole altre. Per questo noi, io e Lorenzo, siamo tornati ora dalla Maremma dove si è cantato il maggio per due giorni. Si sente anche dalla voce che oggi... Mi ritrovo nella zona di Suvereto, qui la bassa provincia di Livorno, dove i poeti sono attesi a gloria perché hanno questo particolare dono di portare questo benaugurio di scacciare il malocchio, di favorire i frutti, di scacciare la malasorte. E' un guai se si entra nelle case e non si cantano delle ottave. Proprio io mi sono trovato a una discussione fra poeti in cui si recriminava sul fatto che davano troppo spazio ai maggiorini che cantavano le canzoni e davano poco spazio ai poeti. Per cui la funzione del canto popolare in sostanza è questo. Più di sapere che magari Marco ha tirato il collo a Lorenzo e è finito in galera, è più un discorso morale per cui dice guarda se ti comporti così poi ti succede questo. Se è sicuro di volerlo fare ma se lo vuoi fare fallo. E' per questo che poi ogni paese si accaparra la paternità di un fattaccio e ogni popolo... Per poterci recuperare sopra insomma. Bene, il professor Pio ci doveva leggere una ballata. Gli volevo fare una domanda però prima della ballata. Una domanda a proposito di quello che diceva Marco, ma in questo momento me ne ricordo più. Me ne è venuta a mente allora ci lega la ballata e poi se mi rivene in mente gliela faccio. Ecco, la ballata è stata composta da un poeta di Baggio uno dei tanti poeti che dopo la fine della guerra dopo il passaggio del fronte si sono improvvisati poeti. Questo Morandi di Baggio era un falegname e ha sentito il bisogno di cantare ispirandosi ai fatti che erano successi nella zona di Capriglia dove i tedeschi operarono è un uccidio veramente grave. Leggo il testo che magari poi sarebbe bene far vedere perché è un foglio di cantastoria. Se uditori vi piace ascoltare di un tremendo fatto la storia la terrete così per memoria cosa venne a me leto in crisi. Lì ci andiede molti tedeschi cominciarono a fargli gli assassini feciano partire le donne e i bambini e i mariti coi tedeschi restò. Circondarono il paese all'istante e molestando molte persone e Don Fondelli a liberarli si impone e anche lui nella mischia restò. Don Fondelli era il parroco di Meleto. Questo avvenne il 4 di luglio e gli portarono nelle piazze all'istante per causa di qualche brigante e cominciarono così a mitragliare. Circa l'undici tornavano le donne e domandarono del loro consorte ma che i barbari avevano dato la morte quanto strazio quelle mogli provò. Povere madri povere spose e sorelle quanti parenti non riesco a leggere amici adorati come degna venivano bruciati dall'infame tedesca nascita. D'aver sentito i pianti e i lamenti l'innocenza faceva compassione e per via di quelle infame nazione quante lacrime ha fatto versare. quante famiglie restono nel dolore specialmente Rossini e Sottani e per via di quei disumani quante vedove solo restò. Ma questi infami sentiranno rimorso d'aver strasiato quegli innocenti. 99 furono non si legge qui il testo probabilmente però è rammenti nel senso è stato fatto un elenco di 99 persone e gli terremo per sempre nel cuore. Io dolente vi termino il canto non potendo più seguitare perché troppo orrendo mi pare perché nel mondo più grossa non c'è. come leto ricorda i tuoi figli che da te erano tanto amati e da nessuno verranno scordati e qualcuno giustizia farà. Tutto il mondo ricorda che i fatti dell'infamia che ha fatto il nazismo ma i giovani di quel socialismo li sapranno un di vendicare. se il Morandi la storia vi ha fatto la terrete così conservata tra dieci anni verrà ricantata da quegli orfani di quei genitori. Questo è il testo a stampa. Poi ho avuto la fortuna di recuperare dalla famiglia del Morandi il Morandi era ancora vivo però non l'ho potuto intervistare perché aveva perso completamente la ragione. Una registrazione che ho pubblicato pure assieme a uno dei miei volumi sui canti popolari in cui il Morandi riprende questo testo però aggiunge delle cose particolari. Sottolinea la responsabilità dei fascisti per quello che era successo. Non leggo tutto il testo leggo solamente le parti che interessano e sono queste dicendiete parecchi tedeschi e informati dagli italiani e per cercare dei partigiani che credendo che fossero lì fecciano partire le donne e i bambini e tutti gli uomini quei tedeschi e ci restava e Don Fondelli allora si impegnava per potergli i popolani salvare. Quindi qui vi mette in luce la responsabilità dei partiti. poi nelle ultime tre strofe addirittura dice o Meleto ben ricorderai di quei giorni terribili e tristi e se nella mischia ci furono squadristi ma di quegli pietà non aveva perché quelli furono la cagione di aver fatto quest'altro macello e che fra Massa Meleto e Castello e 200 padri non esistono più circa 200 è stato il numero complessivo e se la storia così è stata fatta la terrete così conservata che fra decenni verrà ricantata da quegli orfani di quei genitori ora oltre al figlio del Morandi che mi ha detto diverse cose che ho pubblicato di recente su una rivista che si chiama Toscana Folk ho intervistato anche un suonatore di chitarra che accompagnava il Morandi perché il Morandi cantava e questo qui suonava la chitarra vale la pena sentire cosa mi ha detto questo cantante Marlino Ognelli che accompagnava i Morandi mi ha detto perché Duce dice così che le reazioni del pubblico erano particolari dice perché allora gli era la gente curiosa di sapere diversi fatti poi gli avevano il sangue avvelenato gli avevano delle vendette in capo chi gli era morto il figliolo chi lo zio chi la zia e già e piangevano perché è commovente l'è perché Ubisco non era sapeva mettere bene in carta a lui parlando del Morandi mi ha detto pure che questo Morandi però a un certo punto lui l'ha lasciato perché era troppo preso dal suo coso se una persona singola gli chiedeva di ricantare lui lo accontentava si sentiva e dice però in questo modo non si non si raccattava niente cioè aveva meno effetto lo leggo si è fatto delle fiere dei mercati in queste feste e poi ci chiamavano di qua e di là ma un lungo tempo no perché lui era un po' strambo inteso per queste cose senza litigare si divise la roba si divise il materiale ognuno prese la sua va bene perché lui ci metteva troppo a spiegarle queste storie questi affari invece gli dissi questi affari che qui non vanno spiegati a persona a persona bisogna spiegargli dove c'è un nucleo di persone lui invece si metteva anche se trovava una donna si metteva accantagli che fatti lì ma no non va bene questo è il lognelli che ricorda l'entusiasmo e la partecipazione di questo Morandi che non era uno storico però non dice niente di diverso da quello che risulta a proposito dell'eccidio dei tedeschi e delle responsabilità anche dei fascisti perché io ho fatto una ricerca mi pare che alcuni fascisti abbiano accompagnato i tedeschi io spero che questi fascisti fossero non proprio della zona ma fossero più o meno degli alto attesini perché si sa che molti alto attesini in lingua tedesca si erano arrollati nell'esercito tedesco e quindi conoscevano sia l'italiano che tedesco mi dispiace di non poter continuare perché so che non posso monopolizzare il tempo però ha messo in evidenza il punto su cui si era sottermato il collega di tenere conto che questo Morandi si è informato e poi via via naturalmente la gente a cui cantava gli avrà detto ma guarda c'erano anche fascisti eccetera eccetera e via discorrendo e ha fatto da fonte anche emotiva non solo razionale le vostre esperienze recenti Lorenzo come parlava Marco siamo stati a cantare a cantare il maggio questa antica tradizione sulla quale andrebbero fatte diverse trasmissioni per poter un po' parlare però un'altra cosa importante che stiamo facendo sono diciamo dei laboratori nelle scuole laboratori sull'ottava rima e non solo sull'ottava rima ma su in genere l'oralità lo stiamo facendo alla scuola media di Teranova Bracciolini e all'istituto al liceo linguistico di San Giovanni Valdarno abbiamo preso in partito dal modo sulla scuola Teranova Bracciolini stiamo facendo un lavoro che è sulla tradizione popolare sulla su una rielaborazione dei promessi sposi con la metrica una metrica particolare di una rappresentazione popolare basandoci sugli studi e sulle raccolte numerosissime del professor Priore sulla zinganetta che era una forma particolare di rappresentazione e ci siamo permessi di riscrivere con la formula metrica della zinganetta i promessi sposi quindi attenendosi a quelli che sono i programmi scolastici delle medie e cercando di sicuramente coinvolgendo i ragazzi in una rappresentazione tra lo studio delle tradizioni la memoria l'imparare la memoria e anche vedere e questo ne abbiamo avuto riscontro l'altro anno che impersonando prendendo parte attiva alla narrazione della storia i ragazzi hanno capito che cosa erano i promessi sposi o l'hanno capito meglio diciamo però e questa è la funzione anche che va oltre quello di cui stavamo parlando prima della tradizione orale del teatro cioè della rappresentazione dell'evento che ha una funzione catartica scaramantica ma anche liberatoria perché io vedo io faccio un altro personaggio però nel farlo mi impersonifico e quindi mi posso anche liberare da paure da terrori da scaramanzie e anche approfondirne la conoscenza perché attraverso la terzietà della rappresentazione riesco a a conoscere meglio di soggetto evitando la noia eh si spera è vero però certo sì sì ma infatti quando si entra dentro la rappresentazione la noia passa perché è un altro punto di vista questa è la funzione appunto che sì sì infatti io ho sapere sostenuto che gli insegnanti dovrebbero essere un pochino anche attori se gli riuscissi se no ragazzi muoiono di noia sì sì ma infatti è un'altra se posso insomma dire anche con la professora con varie professore professoresse professori dell'istituto linguistico abbiamo con la professoressa Simona Beni in particolare abbiamo fatto delle prove di lettura proprio sfruttando diciamo le minime capacità che provengono da aver fatto studi sul teatro e sulla lettura e sulla recitazione provando a leggere gli stessi brani che si imparano in maniera un pochino più più completa più se si fosse passatemi termine attoriali e se visto che nei ragazzi anche le modalità proprio di rappresentazione di una lettura da Dante a Jacopone da Todi o altri tipi di brani si colgono degli aspetti diversi e forse si ritrova anche un diverso interesse è un'altra sperimentazione anche questa qualche esperienza recente Marco il maggio che è un po' diciamo in Toscana il punto di arrivo dei poeti ecco quando sono pronti per cantare il maggio sono completi e questo è l'esperienza una tradizione solo toscana questo tema no il maggio e il canta maggio è diffuso un po' tutta Italia secondo varie forme in Toscana c'è proprio nelle Maremme questa forma lirica in cui viene cantato questo canto augurale che viene composto di anno in anno dal poeta della squadra perché oltre a chiedere il permesso per testimoniare che le persone che portiamo nelle case sono persone degne ad essere accolte persone delle quali ci si può fidare ci si può aprire la casa abbiamo anche questo compito di scrivere questo maggio che viene tutti gli anni cantato e questa è la parte più bella più rituale quella dove oggi l'ottava rima trova la sua funzione l'unica funzione che forse ha io anche quando devo fare i laboratori a scuola faccio sempre questo esempio ragazzi dico l'ottava rima non è morta però l'abbiamo di sotterrare l'abbiamo tolto più la terra per cui ora è in dei vasi in attesa di trovare una sua collocazione perché naturalmente è passato avanti il rap perché è la stessa cosa però ha più forza senza ombra di dubbio poi c'è un altro aspetto io me ne rendo conto che più si improvvisa di fronte a persone giovani e meno persone capiscono perché probabilmente non conosco le parole che noi usiamo non lo so io questo è sempre italiano però sembra che non capiscano e più so tu hai anche parole tipo ignora o bieco o chiostro non sì vabbè io penso tu abbia ragione ma lì il problema è più esula dall'ottava rima dai cantastorie eccetera sì però se noi usiamo le parole se le parole non sono conosciute c'è chi pensa per esempio che la scuola dovrebbe anche andare sulla tradizione quindi consentire di leggere non so anche nell'alta letteratura ecco leopardi senza aver bisogno di poabolare invece oggi è quasi come dire un'altra lingua no però la scuola però sai è un'opinione mia per esempio anche di altri però i vecchi generalmente sono abbastanza patetici e quindi è bene sopra sedere De Simonis ma lei pratica anche lei questo tipo di sport oppure soltanto un analista e un critico l'ho detto prima sono un invidioso che si occupa di queste cose in termini di studio e di organizzazione sì no però si perdono guardi perché effettivamente ha fatto una riflessione iniziale che ha dato un po' insieme a professor Priore in là a tutta la trasmissione ci siamo per forza dovuti sintetizzare bene o male ma qualcosa si è visto intanto la fonte probabilmente poetica è forse anche più vera della fonte del verbale dei carabinieri a me questo mi è restato cioè la fonte scritta insomma documenti scritti bisogna bloccarsi qui perché purtroppo il tempo se ne sta andando vi ringrazio tanto perché siete stati molto esaurienti in un ambito fra l'altro in cui avete insegnato qualcosa anche a me collaborate solo con liceo linguistico nelle scuole superiori no per il momento sì abbiamo fatto anche liceo linguistico scusa è un momento di vanità ma l'ho creato io ecco io vi lascio a memoria di questo incontro questi piccoli riflessioni sulla annunciazione di via tangeli come c'è a San Giovanni grazie lo passo grazie riflessione sulla sulla pittura bene a questo punto dopo avervi ringraziato tanto speriamo di rivederci un'altra volta toccando qualche tema un pochino più specifico devo annunciare appunto fare i consueti annunci agli spettatori a chi ci segue le repliche continueranno con il loro consueto orario del sabato e la domenica segno 7 news va in onda il venerdì il sabato e la domenica nell'orario consueto alle 17 e 30 a mezzogiorno e 10 il sabato e la domenica alle 9 le più belle pagine del Vangelo che è una rubrica che va in onda già da da poco tempo cioè dal 7 gennaio e continua la domenica alle 18 e 50 cioè 10 alle 7 insomma lunedì alle 8 e 50 e il martedì a mezzogiorno e 10 la prossima puntata mercoledì 9 maggio è la vita in fattoria ai tempi e la mezzatria il caso del castello di Pian francese siamo nella zona di Meleto insomma un po' più là gli ospiti sono Alessandro Gambassi Vasco Ferrini e Gabriele Begliomini ricordo agli spettatori anche ai nostri ospiti se gli interessassero c'è un sito internet che è www.segnosette.it in cui c'è l'archivio delle puntate si può rivedere tutto anche degli anni precedenti poi ci sono tutto ciò che c'è insomma in un sito internet di una trasmissione televisiva di nuovo vi ringrazio e do appuntamento agli spettatori alla prossima puntata che poi è la puntata conclusiva della nostra 32esima edizione e speriamo di leggere e di andare avanti ancora per molto grazie buonanotte grazie